Ben ritrovati su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia. Apriamo con una news da Palermo, nuovo terremoto a Palermo in vista delle elezioni amministrative di domenica. La polizia infatti ha arrestato con l'accusa di scambio elettorale politico mafioso il candidato al Consiglio Comunale di Palermo di Fratelli d'Italia Francesco Lombardo e il mafioso Vincenzo Vella, boss di Brancaccio, già condannato tre volte per associazione mafiosa. L'aspirante consigliere comunale il 28 maggio avrebbe incontrato il mafioso e gli avrebbe chiesto il sostegno alle elezioni di domenica. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Due giorni fa per lo stesso reato erano finiti in cella un candidato al Consiglio Comunale di Forza Italia e un costruttore mafioso. Dunque nuovo terremoto politico nel centro-destra in vista delle elezioni amministrative di domenica. Parliamo ancora di cronaca ma cambiamo argomento e ci spostiamo virtualmente a Messina. Nel corso di servizi coordinati per il controllo del territorio in zona Rada San Francesco, i carabinieri della stazione di Bordonaro hanno fermato un'auto con alla guida un 52N calabrese. Durante il controllo l'uomo non riusciva a fornire ragioni plausibili sui suoi spostamenti. I militari lo hanno quindi sottoposto a perquisizione personale veicolare rinvenendo, abilmente nascosti all'interno di due vani ricavati dietro gli stop posteriori della vettura, circa 3,4 kg di cocaina suddivisa in cinque panetti e avvolti da una pellicola trasparente al cui interno vi era della Nduia. Queste sono le immagini, vedete, del ritrovamento da parte dei carabinieri. E parliamo ancora di spaccio di droga ma ci spostiamo a Catania dove sono stati denunciati tre giovani. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno denunciato tre giovani catanesi in quanto gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di evasione. Nella tarda serata i militari hanno effettuato un servizio di contrasto all'illegalità diffusa e in particolare allo spaccio di droga nel quartiere Librino, laddove avevano attenzionato cinque giovani in strada nei pressi di un palazzo che all'arrivo dei carabinieri hanno tentato la fuga ma sono stati prontamente bloccati e sottoposti a controllo. Uno di loro, oltre ad aver tentato di allontanarsi a bordo di uno scooter, ha pure cercato di disfarsi di una busta di plastica subito recuperata dai militari al cui interno sono state rinvenute cinque dosi di marijuana. All'esito di ulteriori accertamenti è emerso che il ventunenne e un altro giovane, benché sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, ne avevano violato le prescrizioni scendendo in strada. Le attività di ricerca, estese anche nelle adiacenze delle scale del palazzo dove gravitavano i giovani, hanno fornito ulteriori riscontri ai militari che hanno infatti rinvenuto, sequestrando a carico di un ventenne, che ne ha poi rivendicato il possesso, un borsello contenente un bilancino di precisione, nonché dei contenitori di plastica con all'interno cocaina e crack occultati all'interno dei contatori dell'acqua. Sequestrata anche una ricce trasmittente, verosimilmente utilizzata per comunicare tra di loro. Spaccio di droga anche a Pantelleria, due in questo caso le persone finite in manette. I carabinieri della stazione di Pantelleria, a conclusione di un'attività d'indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due giovani di 21 anni, uno residente sull'isola e uno a Trapani. I militari, sospettando che il giovane pantesco spacciasse droga in un dammuso di cui aveva la disponibilità, hanno eseguito dei controlli di osservazione fino all'esecuzione di una perquisizione. All'interno dell'immobile i carabinieri hanno identificato il 21enne Pantesco, che si trovava in compagnia del coetaneo trapanese, mentre sul tavolo nella cucina hanno rinvenuto tre panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi, una busta contenente circa 30 grammi di cocaina e un contenitore con 5 grammi di marijuana, nonché diverse dosi di cocaina e hashish. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in considerazione della presenza sul vedesimo tavolo di coltelli con la lama intrisa di sostanza stupefacente, di bilancini e di materiale utile al confezionamento delle dosi, nonché di parte dello stupefacente già pronto per essere ceduto, i due giovani sarebbero stati verosimilmente intenti a preparare la droga di cui si erano riforniti in modo da cederla a terzi. Per questi motivi i carabinieri hanno arrestato i due ventunenni che sono stati ristretti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. E non si ferma la ricerca di stupefacenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa, i quali nel corso di un normale controllo del territorio hanno controllato un ganese trovandolo in possesso di circa 400 grammi di eroina occultata in tasche interne dei pantaloni. Il 47enne proveniente da Palermo a bordo di un mezzo di trasporto pubblico è stato fermato al capolina degli autobus a Siracusa perquisito e condotto in caserma per gli accertamenti di rito a seguito dei quali è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa l'uomo è stato associato presso la casa circondariale Cava Donna. E adesso invece ci spostiamo a Palermo dove sono indagati due parcheggiatori abusivi l'accusa è tentata estorsione e lesioni personali. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di due parcheggiatori abusivi padre e figlio ritenuti responsabili di tentata estorsione e lesioni personali ai danni di due cittadini che secondo l'ipotesi accusatoria si erano rifiutati di corrispondere un'offerta di denaro richiesta dai due come corrispettivo per il servizio di guardiania abusiva alla loro auto. Il provvedimento è stato emesso dall'ufficio GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale procura con l'applicazione degli arresti domiciliari al primo e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria insieme all'obbligo di dimora nel comune di Palermo al secondo. La misura cautelare il frutto dell'incrementata attività di controllo posta in essere dai carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo anche alla luce dell'aumento dei flussi turistici e dell'incrementata presenza di cittadini specie nel centro storico del capoluogo. L'attività di controllo delle strade e successivi approfondimenti investigativi finalizzati a riscontrare le dichiarazioni delle vittime hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico dei due indagati che a fronte del diniego espresso circa l'elargizione di denaro avrebbero posto in essere atti di violenza e minaccia nei confronti degli automobilisti in cerca di un parcheggio. Aggrediscono una coetanea, riprendono la scena con gli smartphone e poi postano tutto sui social. Siamo a Messina, la polizia ha identificato tre minorenni. La polizia postale delle comunicazioni di Messina ha svolto un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che ha consentito l'identificazione di tre minori, due ragazze e un ragazzo responsabili in concorso di lesioni personali, minacce e diffamazioni aggravati. Nei mesi scorsi una delle indagate, ritenendo che una coetanea le avesse nascosto di sentirsi con un ragazzo, riusciva ingannevolmente a incontrarla in una strada del centro città di Messina, aggredendola violentemente e cagionando le varie lesioni, il tutto alla presenza degli altri due indagati, uno dei quali riprendeva con lo smartphone la scena di violenza. Il video veniva successivamente diffuso su un canale social e su servizi di messaggistica con didascalie in sovraimpressione che riportavano commenti denigratori e diffamatori. L'indagine ha avuto inizio a seguito della denuncia da parte dei genitori della parte offesa. La polizia postale, dopo aver verificato la presenza in rete del video della violenta aggressione, ha richiesto alla procura dei minorenni un decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi elettronici nella disponibilità della prima indagata. L'analisi dei dispositivi ha consentito l'identificazione anche degli altri due minorenni che avevano concorso materialmente e moralmente nei reati. Restiamo per un attimo a Messina dove la polizia ferroviaria ha salvato un 67enne che si era sdraiato sui binari con chiari intenti suicidi. Gli agenti, allertati dal personale ferroviario della presenza di un uomo tra i binari, si sono recati sul luogo della segnalazione, un tratto molto trafficato, dove hanno trovato il malcapitato, che in evidente stato di agitazione, ha la richiesta di allontanarsi a opposto resistenza, manifestando ripetutamente l'intenzione di togliersi la vita. Vista la pericolosità della circostanza, i poliziotti hanno deciso di sollevare l'anziano di peso e trasportarlo al sicuro sul marciapiede più vicino. Gli agenti hanno appurato che l'uomo si era allontanato nella stessa mattinata da una casa di riposo di Messina. Ed ora invece torniamo a Catania per parlare dell'arresto di un ladro. Vediamo il servizio. La polizia di Stato ha arrestato un uomo per tentato furto aggravato. Lo scorso 8 giugno personale della squadra a cavallo sulla strada di rientro verso le scuderie ubicate all'interno del boschetto della Playa in Viale Kennedy, ha notato due soggetti intenti ad asportare il catalizzatore di un'autovettura parcheggiata. Alla vista del van della polizia, i due malfattori si sono dati alla fuga. Uno di essi è riuscito a far perdere le proprie tracce, dileguandosi a bordo di uno scooter, mentre l'altro è scappato a piedi in direzione dei lidi della Playa. I due poliziotti scesi dal veicolo si sono messi all'inseguimento di quest'ultimo senza mai perderlo di vista, nonostante lo stesso tentasse di nascondersi all'interno degli stabilimenti balneari, approfittando anche della presenza di numerosi bagnanti. Dopo alcune centinaia di metri sono riusciti a bloccarlo dentro la cabina di un lido, con l'ausilio di un collega della sezione volanti libero dal servizio che si trovava in spiaggia. L'uomo, residente a Bronte, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari. Restiamo nel Catanese per la precisione a riposto dove i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Giarre hanno denunciato un 38enne e un 37enne entrambi di paternò in quanto gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso. I militari sono intervenuti a riposto in via strada 4 femmina morta a seguito di una segnalazione circa la presenza di due persone intente ad armeggiare all'interno di un cantiere edile. Sopraggiunti tempestivamente i carabinieri hanno notato un Fiat Ducato bianco già caricato con ponteggi e barre di camminamento. Proprio vicino al furgone hanno sorpreso e bloccato il 38enne mentre l'accomplice 37enne che ha cercato di fuggire mimetizzandosi nella vegetazione è stato poi anche lui fermato. Dagli accertamenti è emerso che i due avevano pensato di arraffare quanto più possibile andando in giro per cantieri e utilizzando come copertura il Fiat Ducato, noleggiato qualche giorno prima dal 37enne presso un'ignara società di noleggio di paternò. Parliamo ancora di cronaca, ci spostiamo adesso a Sciacca dove hanno bruciato per protesta alle tessere elettorali i pescatori di Sciacca, siamo ovviamente nell'Agrigentino, che da lunedì hanno ripreso lo sciopero contro il fenomeno del caro gasolio. È un modo per manifestare il nostro malessere nei confronti di una classe politica che non riesce a dare risposte al nostro settore, ha detto Salvatore Scaduto, presidente della cooperativa Madonna del Soccorso che raggruppa buona parte degli armatori della locale flotta Peschereccia. Noi vorremmo tornare a lavorare ma con il gasolio a più di 1,25 euro al litro non riusciamo a coprire nemmeno le spese vive, ha detto invece Giacomo Fauci, proprietario di un moto peschereccio. E adesso un'altra notizia da Messina, parliamo sempre di cronaca, i poliziotti delle volanti hanno proceduto all'arresto di un 41enne per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente. La persona, probabilmente per motivi di gelosia, ha mandato in frantumi un vetro dell'automobile a bordo della quale erano presenti la compagna e una terza persona. La coppia era già stata protagonista di un primo intervento dei poliziotti delle volanti nella giornata di ieri a causa di una lite che sembrava risoltasi. Quanto accaduto dopo e una prima ricostruzione dei fatti ha evidenziato condotte ben più gravi avute nel corso degli anni. La persona arrestata è stata trasferita presso la locale casa circondariale su disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed ora invece a Caltanissetta, dove sono stati eseguite due misure cautelari, le accuse sono di tentato omicidio e sequestro di persona. La squadra mobile ha eseguito due misure cautelari della custodia in carcere. Due gli indagati, uno per tentato omicidio e sequestro di persona, era già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, e l'altro solo per sequestro di persona, già in carcere per reiterate violazioni della misura di prevenzione. La notte tra il 30 e il 31 maggio del 2020, due giovani in compagnia di fidanzate e amici sarebbero venuti alle mani per futti di motivi in piazza Mercato a Caltanissetta, anche per lo stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol. Uno dei due litiganti, in un primo momento allontanatosi dal posto, avrebbe poi fatto ritorno armato di pistola, esplodendo all'indirizzo del rivale almeno due colpi, senza però riuscire a centrarlo. Nonostante la presenza di numerose persone, solo la mattina seguente il proprietario di un veicolo, accortosi che il proprio mezzo parcheggiato presentava alcuni fori di pistola, ha richiesto l'intervento della polizia. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti alcuni elementi utili per risalire all'arma utilizzata e le indagini hanno permesso di indirizzare i sospetti su un giovane nisseno. Inoltre, l'indagato per il reato di tentato omicidio, insieme a un complice, avrebbe privato della libertà due ragazzi. I due avrebbero attirato con l'inganno le persone offese presso un'abitazione in loro uso, sottoponendole per circa due ore a violenze fisiche e morali, impedendo loro di allontanarsi. Pertanto il GIP ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza anche in relazione al reato di sequestro di persona. Ci fermiamo qui, non ci sono aggiornamenti, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. A dopo. Grazie. Grazie.